Grazie a tutti La Pasqua è stata davvero una Pasqua eccezionale per presenze di pellegrini, anche emotivamente coinvolgente. In Basilica le nostre celebrazioni sono sempre ben sostenute e la testimonianza che sono apprezzate viene dal fatto che vengono pellegrini da tutte le parti d'Italia per partecipare alle celebrazioni del Triduo Sacro in Basilica. Io ho avuto modo di incontrarli a più riprese nei due giorni, tre giorni che sono rimasti qui a Padova proprio perché mi ero incuriosito di conoscere le motivazioni vere per cui questi pellegrini giungono a Padova. Certamente la devozione a Sant'Antonio ma anche la bellezza, la solennità delle celebrazioni. Qui la cappella musicale Antoniana è una preziosità della Basilica che dà lustro alle celebrazioni. Ah, quindi anche per motivi artistici frequentano la Basilica. Oggi purtroppo se lei va nelle chiese anche nei giorni di Solenni trova il coro che esprime, se c'è un coro che canta in italiano che non ripresenta dei canti importanti come la messa di Mozart o qualcosa del genere. Invece noi lo facciamo, ecco. D'altra parte c'è una lunga tradizione da questo punto di vista e quindi per fortuna vedo che non è cambiata. Ecco, la città diciamo che come sempre esprime la sua devozione a Sant'Antonio e sappiamo che lui è il santo del mondo e che c'è questo continuo pellegrinaggio di persone che arrivano anche da altri paesi. Lei prima diceva che mi sono incuriosito e li ho visti da vicino. Ogni anno sappiamo che molti vengono per chiedere a Sant'Antonio, vengono per portare le loro richieste al santo. Da questo punto di vista c'è qualcosa di particolare che sta succedendo? Ma certamente non mancano le richieste. Quelle richieste arrivano in mille modi. Arrivano attraverso lettere, mail, scritte direttamente a me oppure attraverso il messaggero di Sant'Antonio, attraverso le persone che passano in Basilica. Infatti parlavo con la redazione del messaggero, mi dicevano voi non sapete quante lettere, quante richieste arrivano di preghiera, di esaudire delle situazioni. È un numero che cresce sempre. Sì, il messaggero ha dovuto da anni realizzare un call center per poter soddisfare tutte le richieste. Ma poi io vedo nella posta che arriva a me anche tutti i caro Sant'Antonio, quei biglietti che vengono prelevati dalla Basilica e portati magari da qualche pellegrino alle persone conoscenti, parenti, amici, le quali compilano il caro Sant'Antonio scrivendo la loro intenzione e la rispediscono alla Basilica. E qui per noi è un impegno grande non solo quello di aprire le buste, ma poi di dare soddisfazione a tutte quelle richieste, perché loro si appoggiano a noi e chiedono che noi ci diamo da fare. Allora io la mattina quando mi alzo, la prima cosa che faccio è che vado alla tomba di Sant'Antonio, busso così alla tomba e dico guarda che oggi ci sono tante altre richieste, giunte il giorno prima, ecco quindi tutta la nostra preghiera, la preghiera della comunità è certamente per sostenere queste persone che sono malate, che hanno problemi, che diciamo vivono magari conflitti in famiglia, genitori con i figli, figli con i genitori, tra coniugi, le più svariate diciamo richieste. Che bello però, questo fatto che viene percepito come un'entità viva e presente con cui comunicare e parlare, questa è proprio una delle cose particolari che lega i fedeli alla figura di Sant'Antonio e che è sempre una sorpresa. Non sono passati molti anni da quando c'è stata l'ostensione delle spoglie di Sant'Antonio, abbiamo visto come la Basilica è diventata meta di veramente migliaia e migliaia di persone. Sì, una settimana, 200.000 persone da gestire, non sono state poche. Ecco, in questi giorni tra l'altro abbiamo visto che c'è l'ostensione della Sindone a Torino, che cosa significa anche per parlare di queste cose che succedono nel mondo della Chiesa e dei fedeli, che magari non sono a tutti quanti particolarmente consuete. Che cosa vuol dire quando c'è questo atto dell'ostensione delle spoglie del Santo piuttosto che della Sindone? Allora, io credo molto semplicemente proprio, è come quando noi riceviamo un dono, lo lasciamo per un certo periodo sul mobile e quindi ogni volta che noi ci passiamo lo vediamo, ricordiamo le motivazioni per cui ci è stato fatto questo dono, poi un giorno decidiamo di metterlo nel cassetto. Rischiamo di dimenticarlo, no? Allora, l'ostensione diventa un far rivivere la memoria affettiva della gente, no? Ma non della gente per gli altri, anche per noi frati. Per noi frati l'ostensione del corpo di Sant'Antonio è stata un'esperienza davvero unica, ecco, perché io ho notato come la comunità dei frati, noi siamo una sessantina di frati lì al Santo, no? La comunità ha vissuto quella settimana intorno al proprio confratello, no? Con la commozione, ecco, di chi da una parte rivedeva i resti mortali del Santo, no? Ma certamente non si si ferma a guardare i resti mortali, no? Si pensa a che cosa sono stati questi resti mortali, il significato, no? Quindi bisogna sempre andare al di là dei segni, no? Per comprendere la verità, ecco, che essi ci mostrano. Ma la cosa più bella è stata anche proprio il vedere la comunità, ecco, non so, rinsaldata nella devozione verso il suo Santo. E questo è importante che noi frati sentiamo questa devozione e questo amore verso il Santo. Perché? Perché poi noi siamo i primi che devono testimoniarlo, no? Ecco, anche se io dico che personalmente, l'ho detto una volta al termine di una delle processioni, penso la prima sia stata, ho detto io vi ringrazio a tutti i fedeli alla fine della processione che erano lì sulla piazza, vi ringrazio perché voi mi state insegnando la devozione verso Sant'Antonio. C'è sempre da imparare. Sempre da imparare, sì. No, ma è vero, è stato per chi ha vissuto la città anche una grande lezione di rispetto per questa grande devozione che si è espressa in mille forme e anche con la pazienza di rimanere in fila per tante ore pur di arrivare a vedere, a toccare la tomba del Santo e vedere le spoglie del Santo. Voleva aggiungere qualcosa? Sì, vede, un'altra cosa che ho imparato in questi dieci anni che sono iniziato a fare il rettore della Basilica e per me uno dei tesori che ho raccolto è quello del massimo rispetto per le modalità con cui la gente esprime la propria devozione, no? Perché c'è la modalità affettiva, la modalità intellettuale, la modalità, diciamo così, anche magari segnata dalla superstizione a volte, no? Però a rispettare, come dire, la persona, il devoto, il suo modo di esprimere questa devozione perché il rischio grosso è che per far pulizia di cose che magari non sono, diciamo, secondo i criteri della teologia rischiamo di buttare via con i panni sporchi anche il bambino, no? E allora dico sempre, Dio ci dà la possibilità di crescere, abbiamo una vita per crescere, uno può crescere anche all'ultimo momento allora non possiamo, diciamo, violentare nessuno, ecco, no? Dobbiamo rispettarlo, incoraggiarlo a camminare, a liberarsi da quello che non ha a che fare, diciamo, con la vera devozione, ecco? E poi a camminare sulla strada che il Vangelo ci indica, insomma. Ecco, mi fa anche un po' venire in mente le parole che dice Papa Francesco, quello che dice lei adesso, di questo rispetto anche per chi crede, anche se non è perfettamente conforme alla teologia classica, diciamo. Padre Francesco è Papa Francesco che tra l'altro ha quest'anno appena indetto un anno giubilare e forse ci sarà qualche coinvolgimento anche di Padre della Basilica. Sì, beh, il Papa Francesco in quanto ha detto lei è un grande, prima di tutto perché è il primo Papa che ha parlato della devozione popolare in maniera chiara e dimostrando di rispettarla, ecco, perché viene da una nazione, da una cultura dove la devozione popolare è molto viva, no? Ecco, e certo, lui che cosa poteva fare? Indire un anno giubilare della misericordia fa parte proprio, cioè, la ciliegina sulla torta ha tutto un discorso che lui ha fatto in questi anni, perché ha parlato in lungo e in largo sempre, ecco, di questo Dio misericordioso, ha annunciato questo Dio misericordioso. E la cosa importante è che noi dobbiamo tenere presente che Dio non ci perdona perché noi siamo buoni, eh? Ci perdona nonostante il nostro essere cattivi, eh? Il perdono di Dio non è condizionato dal fatto che una persona, eh, come dire, io dico sempre, Noi, la nostra condizione è una condizione di peccatori, quando, prima di entrare in confessionale, siamo dei peccatori, dei peccatori, diciamo, eh... Senza speranza. No, 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 peccatori pentiti, no? Usciamo dal confessionale e siamo dei peccatori riconciliati, ecco, ma sempre peccatori, non è che la nostra condizione, nessuno di noi può tirarsi fuori da questa realtà. E la forza che spinge una persona a cambiare è fare esperienza della misericordia di Dio, che è l'amore più alto, cioè la gratuità con cui Dio ci vuol bene. Devo interromperlo, mi dispiace, in questo discorso così alto, però dobbiamo fermarci due minuti per una piccola pausa pubblicitaria, ma poi torniamo insieme perché ci sono ancora tante cose da raccontare della Basilica, dei fratelli Sant'Antonio e del Santo in generale. A tra poco. Eccoci qui assieme a Padre Enzo Poiana, che ci sta raccontando molte cose della Basilica di Sant'Antonio, della devozione Antoniana e anche della spiritualità in generale. Abbiamo poc'anzi parlato di Papa Francesco, di quello che lui dice intorno appunto alla religiosità popolare, sostanzialmente questo modo di intendere la religiosità, ognuno magari in maniera diversa dagli altri, ma quello che io voglio chiedere a Padre Enzo Poiana, in un momento che è sotto gli occhi di tutti così duro e difficile per la vita della spiritualità nel mondo, perché io credo che l'estremismo sia sempre un momento difficile in cui si vive una spiritualità forse in maniera completamente distorta, come reagisce l'Italia? Per lo meno dal suo osservatorio, che non è un piccolo osservatorio, ritorna a una sua devozione, si allontana, cosa succede? Da quello che vedo, le nuove generazioni si interrogano molto più della mia generazione, quando ero giovane io la mia generazione era molto più spensierata da questo punto di vista e si interrogava poco sulle questioni ultime, le questioni più profonde. Dall'incontro con i giovani, anche quelli che passano in convento, che vengono a chiedere di poter magari stare qualche giorno, di fare qualche... quelli magari potrebbero essere quelli più vicini, ma non è così, perché a volte ci sono giovani che hanno provato di tutto e che poi non hanno più un orientamento, non sanno più che senso ha il vivere e vengono a cercarlo, a cercarlo così, condividendo anche la nostra vita. Ma pensando anche a dei giovani in difficoltà, come di fronte alla proposta di una fede che non sia un vestito da mettere e da smettere, ma qualcosa che veramente permea tutta la tua vita, come sono attenti e come si lasciano provocare. Quindi penso che noi non è che andiamo verso un ateismo, come magari qualcuno tempo addietro magari poteva pensare. Certo che noi dobbiamo cogliere questa esigenza, questa sete e abbeverare con acqua pulita, con acqua giusta, con l'acqua davvero che ristori, rinfranchi profondamente il tuo spirito, perché poi posso trovare soluzioni ai miei problemi, soluzioni che durano un momento. Ci sono invece delle soluzioni che durano una vita, che danno un orientamento alla tua vita, che ti fanno anche nel momento in cui magari sei sofferente, sei in difficoltà, ti sostengono, e non ti fanno andare avanti, non ti fanno cadere nella disperazione. Assolutamente. Perché abbiamo anche noi ospitato tante volte, ognuno cerca la sua via per trovare le soluzioni. Quello che mi interessava capire era se c'era anche un ritorno di fede da parte non solo dei giovani, ma anche delle persone che magari vedono un po' la fede sotto attacco, perché vediamo tutti i giorni che ci sono anche degli attacchi mirati ai cattolici in giro per il mondo. Questo è un problema, io posso dire qui quello che penso riguardo all'Europa, che vorrei che si occupasse di più di questo problema, che le soluzioni non siano solamente delle cose dette, ma anche delle cose fatte. Perché adesso i cristiani in tante parti del mondo, il Papa ha ragione di dire che ci sono più martiri oggi che non nei primi secoli della Chiesa. ed è vero, perché quanti vengono uccisi solo perché cristiani. C'è un'avversione che però depone a favore del cristianesimo. Gesù ha detto, hanno perseguitato me e perseguiteranno anche voi. Io credo davvero che tutto questo ci interroga e che ci aiuterà a trovare certamente delle soluzioni, ma sarà anche un'occasione di rifioritura della fede nel cuore di tante persone, di adesione alla fede cristiana. Sento che le sue parole sono molto meditate e che sono molto convinte, quindi evidentemente poggiano su delle basi reali di confronto con i fedeli. Guardandola così pensavo di dire anche al nostro pubblico cosa significa essere rettore della Basilica di Sant'Antonio, un ruolo di grande responsabilità, non solo perché siete in 60, come lei ricordava prima, ma anche proprio per questa figura che va comunque difesa, tutelata e mantenuta in tutta la sua immagine mondiale. Che cosa significa essere rettore? Parto dalla mia esperienza perché penso che ogni rettore poi abbia dovuto dare il suo contributo. prima di tutto io penso davvero una grazia. Una grazia perché ti mette in contatto con la memoria storica di Antonio, ma una memoria viva di Antonio. e questa memoria viva avviene attraverso l'incontro con le persone che amano Sant'Antonio, che ti insegnano la devozione, che insegnano a me la devozione a Sant'Antonio, ma una memoria viva presente, perché? Perché poi, io adesso non voglio fare un discorso troppo ampio su questo, ma non posso nascondere lo stupore che io provo di fronte a ciò che la gente mi racconta, di grazie ricevute, a volte di miracoli veri e propri. Ecco, io non ho pronunciato questa frase, però lei adesso, abbiamo letto tutti quanti sui giornali, si sta occupando anche di un caso, che è al di là dell'oceano, di un bambino che... Sì, ma anche di casi che sono accaduti qui, ecco, in Italia, davanti ai quali non c'è una spiegazione scientifica. Allora, chi non crede dirà, quello che non possiamo, come dire, spiegare oggi, la scienza lo spiegherà domani. Io dico, vabbè, domani se lo spiegherà, saremo tutti d'accordo. Ma, in questo momento, io, di fronte ad una malattia accertata dal punto di vista medico, non da un medico, da due medici, da esami, questa malattia scompare improvvisamente il 13 giugno 2014, io che cosa posso dire? Mia nonna diceva sempre che quello che non vediamo è ben più grande di quello che vediamo. Ecco, e allora, io dico, la scienza ha certamente il suo compito, ma non si esaurisce tutto in ciò che la scienza ci può dire. E mai queste parole potrebbero essere state meglio pronunciate in questa città che ha questi due cuori, uno che è scientifico, assolutamente scientifico, Padova, con non solo Galileo Galilei, ma tutta la storia della medicina, e l'altro, appunto, che ha questo grande cuore spirituale. Vado d'accordo con questi due cuori della città? Ah, sì, sì. È un buonissimo rapporto con tanti docenti universitari, con il rettore, prima di tutto, il rettore magnifico, ma perché? Perché? Perché alla fine io penso se uno è onesto capisce ecco che io non devo, non è compito mio dire ciò che la scienza può e la scienza non può, ma la scienza non può dire che esiste solo ciò che è sperimentabile. Galileo, da cui prende poi l'avvio il metodo scientifico, quando discorreva e discuteva magari anche con i teologi che lo tenevano a bada, erano altre epoche, erano altre epoche e lui diceva ma ai fin dei conti io voglio attraverso lo studio delle pietre diceva vedere l'opera del creatore quindi non una scienza in contrapposizione alla 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 spiritualità alla religione no? Perché? Perché noi siamo siamo ben altro ecco che un corpo umano o una una biologia siamo altro? grazie padre Enzo Poiana buona attività perché sarà un periodo abbastanza intenso quindi non sappiamo ancora cosa succederà con il giubileo poi con il giugno antoniano sappiamo che però state lavorando con tante iniziative per la città stiamo lavorando tenendo presente sempre anche il contesto attuale quindi qui a Padova le mostre del Donatello ecco e poi anche l'Expo assolutamente adesso visto che non abbiamo più tempo a nostra disposizione ma continuiamo su questo tema con il presidente e capo della veneranda Arca del Santo Giuseppe Berno possiamo dedicarci anche all'aspetto culturale che è sempre molto vivace intorno alla Basilica grazie Ancodra a padre Enzo Poiano e noi ci vediamo tra pochissimo